Il cinema è un volano, ci si ferma fuori a discutere se il primo è bello o no, all'intervallo diventa un momento di aggregazione. Il tesoro umano sta nelle piccole cose, sta nelle storie di fragilità, sta nelle zone di periferia. Si ha quell'enorme patrimonio di ricchezza non materiale, vive e si trasmette anche da una generazione con l'altra. Fare sempre le cose motivate non da se stessi, ma dall'importanza di dare un messaggio agli altri. E rifatevi tutte, un chissino! Tu sei raggiunto da qualcosa di così meraviglioso come un insieme di parole, un verso, una poesia, una canzone. Qualunque cosa che abbia a che fare con l'emozione deve avere un atteggiamento sacrale, come di preghiera. La parola successo ha un significato ben preciso, cioè è il participio passato del verbo succedere. Della nostra epoca ci racconta la generazione più giovane, quello che ha sempre rappresentato la musica per la generazione più giovane. La montagna ci insegna a non mollare mai. Da un punto di vista delle nostre capacità di sopravvivenza sul pianeta, le piante hanno già risolto tutti i problemi che oggi ci affliggono. Io credo che in Italia ci sia veramente tantissime opportunità per persone che hanno spirito critico. Il motivo per restare è sicuramente per cercare di dare una possibilità. Un sogno per trasformarlo in realtà è possibile solo attraverso un determinato percorso. Anche la persona più talentuosa, se non ha la testa, non può mai raggiungere un grande obiettivo. Differenti modi per intendere il viaggio, ma per me questo è comprendere il diverso, comprendere le altre culture. Per me è leggere, viaggiare in posti che magari non potrò mai visitare.